Gli agenti del commissariato di Fano hanno denunciato in stato di libertà un cinquantenne italiano per reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'indagine è partita da un intervento effettuato da una volante nella zona di Sant'Orso dopo una segnalazione al 113 circa un anziano che in pigiama e ciabatte vagava per le strade del quartiere. Gli agenti in poco tempo hanno rintracciato l'uomo, un'ultra ottantenne del posto il quale aveva una profonda ferita ad una mano. L'anziano ha riferito agli agenti di essersi ferito con le schegge di una sedia che il figlio durante un'accesa lite domestica aveva scagliato contro una parete rompendola. Sempre secondo l'anziano si trovava per strada perché la violenta reazione del figlio lo aveva tanto spaventato da indurlo ad uscire di casa nelle condizioni in cui si trovava in quel momento. Tanto è bastato ai poliziotti per avviare una veloce indagine coordinata dal dirigente Stefano Seretti che ha messo in luce che l'ultra ottantenne malato e non autosufficiente versava in un forte strato di angoscia e preoccupazione dovuto anche ai continui comportamenti violenti ed aggressivi del figlio che lo portavano a reazioni violente e a distruggere mobili e suppellettili. Infatti i poliziotti una volta arrivati nell'abitazione dell'uomo hanno trovato il figlio cinquantenne in evidente stato di alterazione alcolica e potevano appurare le pessime condizioni dell'appartamento in cui viveva assieme all'anziano padre che portava i segni evidenti delle sue sfuriate con letti, porte e finestre rotte, numerosi suppellettili spaccati da terra e macchie anche di sangue sul pavimento. Pertanto per il figlio cinquantenne è scattata la denuncia in stato di libertà per i reati di maltrattamento in famiglia e lesioni personali gravi. Inoltre il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro sulla base degli alimenti forniti dai poliziotti ha disposto nei confronti dell'indagato la misura cautelare personale dell'allontanamento dall'abitazione familiare.